C'è una tantissima tipologia di norme, posso dire, tipo il mondo giumano giro, i campanelli, il mondo del campotto, l'amato, ma ce ne trovo tantissimi, ma lei verrà, che sono quasi tutte scritte a penna, vado a guardare la pagina qui, è chiaro, cioè, ma siamo quasi normali, perché io devo fare il prologgio con i propri bambini per avere la possibilità di andare a fare più, penso che sia una cosa normalissima, io l'ho fatto qua, adesso, mentre ero detenuto a Reggio Emilia, ma l'ho fatto all'epoca, nel 2020, quando sono stato detenuto a Paola, ma lì penso che non avevo un attimo di tempo, per quanto le dovrevo fare, perché c'erano tutti stranieri, non c'erano vanno a testa, quindi ho fatto per i generali, per i turisti, per l'albanese, per i napoletani, quindi io l'ho fatto e li continuo a fare, perché era una questione di solidarietà, cioè, non hanno visto mai niente animale di voi, riguardo a passare l'attenzione su quello che era strano, non era voluta per noi facessimo il processo contenuto, questo è assurdo, però io sono molto soddisfatto la sua risposta, perché noi chiamavano quelli che erano, giustamente, l'attenzione ai giornali, l'attenzione a riportare la giustizia in un testo, assolutamente quello che noi volevamo riportare, e mi dispiace che anche questa sia stata considerata come una proporzione, come un percorso di particolare, quando il dottor Mascolini... Grazie. 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 Grazie a tutti.